Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Abbiamo detto che per studiare una canzone abbiamo bisogno del testo. Io solitamente lo stampo il testo e controllo seguendo la canzone che sto studiando dal testo. Ma come facciamo per scaricare un testo adatto a questo lavoro che dobbiamo fare? Cantare in libertà Solitamente insieme al testo che poi comunque viene stampato piccolo ci sono intorno tutte le pubblicità che insomma non vanno bene perché abbiamo bisogno di un testo che sia leggibile. Solitamente io utilizzo il programma che tutti conosciamo che è il Word dove prendo il testo e lo incollo, lo faccio diventare un po' più grande e insomma vi mostro come si fa se qualcuno di voi ancora non sa come fare questa operazione. Bene, per copiare un testo sul Word Apriamo Io uso Chrome Vado su Google e scrivo una canzone scrivendo testo Angelo Renga E' una canzone che conosciamo e ci sono vari siti che hanno questi testi. Clicchiamo su Angolo Testo e troviamo qui questo testo. Con il tasto sinistro del mouse teniamo premuto dall'inizio del testo e scorriamo fino in fondo Ok Tasto destro del mouse copia Apriamo Word Io ce l'ho nella mia barra delle applicazioni Tasto destro del mouse incolla In questo modo avremo il testo così come l'abbiamo trovato nel formato della pagina da cui l'abbiamo copiato Io vi consiglio di fare seleziona tutto qui in alto a destra troviamo il tasto seleziona e poi andiamo a scegliere il nostro formato Io scelgo ad esempio Time New Roman che mi piace voi potete scegliere ovviamente quelle che vi piacciono e poi qui accanto c'è un numerino che ci dice la grandezza che vogliamo ottenere del testo più grande più piccolo Mettiamo adesso giusto 12 e qui da questa barra a destra possiamo andare su e giù a correggere il nostro testo Così come è centrato noi lo possiamo mettere vedete queste barre questa ce lo porta allineata a sinistra questa ce lo centra questa ce lo allinea a destra invece questo è giustifica che solitamente lo mette largo però io utilizzo questa che lo allinea a sinistra poi togliamo il selezione diamo due spazi e scriviamo il titolo ad esempio Angelo fatto questo solitamente se il testo rimane così ed è magari lungo vengono più pagine due pagine tre pagine invece se noi vogliamo metterlo tutto su una pagina possiamo andare alla fine di ogni parola e mettere ad esempio una virgola spazio e con il tasto Cancel facciamo salire una parte di testo in questo modo possiamo recuperare un po' di spazio tempo passa in fretta e tutto se ne va eccetera dove ci sono le parole troppo piccole io solitamente recupero spazio in questo modo qua vado alla fine metto una virgola spazio cance e sale se vi va di recuperare un po' di spazio anche perché a volte i testi sono davvero molto lunghi quindi si finisce per avere tre o quattro foglie su un unico testo scritto piccolino così invece se noi facciamo cosa resta virgola del dolore e di preghiere se Dio non vuole vedete che abbiamo recuperato quattro linee ok infine l'ultima cosa che vorrei dirvi se noi selezioniamo tutto il testo con il tasto destro del mouse se andiamo su paragrafo io questo lo faccio sempre qua c'è la spaziatura perché adesso lo spazio tra una linea e l'altra è molto grande se mettiamo 0 0 interlinea singola dobbiamo fare solo questo ok vedete che ancora si avvicinano i caratteri e quindi avremo ancora recuperato un po' di spazio fatto questo andiamo su sul file salva con nome e decidiamo di salvarlo ad esempio sul desktop e scriviamo angelo renda salva ed avremo qui il nostro file salvato e ordinato spero che questa puntata vi sia stata utile e io vi do appuntamento alla prossima sempre su cantare in libertà ciao se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale seguimi inoltre anche sulla pagina facebook cantare in libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti grazie